Compia un viaggio. Nel corso di questo viaggio è pronto ad offrire vantaggiose condizioni di pace, tanto ai datari minori rispetto al principe che sono pronti a prestarvi omaggio, tanto alle comunità, a tutte quelle diverse università che erano presenti all'interno di Domini Orsiniani. E tra queste anche l'Università di Pisagne che si reglierà attraverso i suoi rappresentanti per questo momento dove si trovava il sovrano nei pressi di vari atterrizi per richiedere delle grazie, cioè il riconoscimento di tutta una serie di privilegi. Le fonti ci dicono che nel corso di questo viaggio Ferrante veniva accolto con tanta allegrezza e festa. Queste sono le parole utilizzate dagli oratori sforzeschi che riportano ai loro governanti descrivono cosa sta accadendo in questo particolare momento per il regno che vede nuovamente la vittoria del sovrano sui diversi feudatari ribelli, incluso il principe. Ma vediamo mesagne perché in questo momento un aspetto importante è che tra la data di morte del principe, che avviene intorno al 15 novembre, e il gennaio del 15 novembre, è un'attività collettiva sulla base di queste università, cioè sulla base di queste comunità che si riconoscevano in questo ente collettivo. Quindi tutta la comunità di Cines attraverso l'università esprimeva tutti i propri rappresentanti e aveva la capacità di svolgere, era riconosciuta quindi a ciascuna comunità, dei rappresentanti della comunità, la possibilità di svolgere funzioni amministrative, giurisdizionali, fiscali, sempre ovviamente riconosciute dall'alto, riconosciute dal sovrano. E' ovvio che nel momento in cui mesagne si libera dal signore feudatario, dopo la morte del principe, comincia ad interloquire direttamente con il sovrano. Quindi cresce il protagonismo circo di questa comunità, perché non deve più rivolgersi al giugatario, ma si rivolge direttamente al re per ottenere tutta una serie di privilegi. Quindi cresce politicamente. Ma questa crescita politica risponde anche a quella di una crescita sociale, economica, perché ovviamente nel momento in cui diversi gruppi sociali esprimono le proprie rappresentanze, che vuol dire che c'è comunque una crescita che coinvolge l'intera comunità di mesagne. E questo lo si vede anche in tutta una serie di richieste che l'Università di mesagne farà in relazione al proprio territorio, perché ci sarà questa tendenza a voler controllare anche il territorio intorno a mesagne. E questo, diciamo, documento che vi ho fotografato, in realtà è un documento precedente, perché è un registro orsiniano, quindi qui trovate scritto mesagne, sono dei registri fiscali dei diversi funzionali del principe e che registrano tutte le entrate recuperate appunto dal principe, esatte dal principe, nella terra di mesagne, e che documentano anche una certa ricchezza di questo territorio per quanto riguarda la produzione vitinicola, produzione olearia, quindi diciamo un catena anche abbastanza ricca per quanto riguarda, diciamo, i prodotti della terra e quindi la produttività agricola. Ancora, la divisione in università, l'organizzazione in università, viene anche vista come la base territoriale del prelievo fiscale, perché come vi ho detto sia il principe, ma lo farà anche il re, considererà l'università come quell'ente collettivo in grado ovviamente di contribuire, di essere tassato e quindi di pensare le imposte alla reggiatà vera della Sondania, che era già preposto alla riscossione delle imposte della corona. Dopo il 1463 abbiamo visto, ecco, scomodato un po' più avanti, che cosa? Questo riscatto della comunità di mesagne, così come le altre comunità appartenenti al principato di Taranto, di riscattarsi dal dominio feudale, dal gioco della feudalità, in qualche modo spesso aveva anche mortificato le aspettative di queste comunità per rivolgersi appunto direttamente al sovrano, che, capite bene, trovandosi anche più distante rispetto al signore feudale, poteva in un certo modo garantire anche, sempre tra virgolette, una certa autonomia amministrativa, economica, sociale, politica di queste comunità rispetto a quello che invece avrebbe rappresentato il governo del signore feudale. Ora, lo studio, diciamo, la conoscenza di quello che era la comunità di mesagne del 400 emerge soprattutto da questo testo, da questi testi capitolari, ovvero da queste richieste di grazie e di capitoli che la comunità, nel mezzo dei suoi rappresentanti, inoltre, rappresenta il sovrano. E il sovrano esprimerà il proprio placere, cercherà il proprio senso. A tutti e 22 i capitoli presentati dalla comunità, in realtà, il sovrano darà il proprio senso. In alcune circostanze poteva anche capitare che il sovrano consentisse in parte alle richieste o inviasse in loco dei propri funzionali per appurare in qualche modo se la richiesta della comunità fosse, diciamo, possibile da soddisfare o meno. E, ripeto, questi capitoli aprono una nuova fase di negoziazione tra la comunità e il sovrano. La comunità che chiede è il sovrano che riconosce tutta una serie di privilegi. Cosa chiede la comunità di mesagne del 400 al sovrano? Chiede soprattutto dei privilegi. Ovvero, cosa sono i privilegi? Chiede che siano confermati i privilegi già goduti. Quindi la prima preoccupazione è non perdere quanto già acquisito. Secondo aspetto, chiede indubbiamente degli isgravi fiscali. Sono presenti richieste di isgravi fiscali che possano ovviamente migliorare la situazione economica e in qualche modo non appesantire la comunità da tutta una serie di nuove tassazioni che la comunità temeva potessero essere imposte con il cambio, diciamo, di governo. Chiede delle agevolazioni commerciali e ancora risulta quindi maggiormente protagonista della sua vita politica e amministrativa. Quindi, attraverso la lettura di questi capitoli che, ripeto, sono esibiti a Perlande nel 1463, noi vediamo come l'università di tutta la comunità di Mesagno è comunque un soggetto attivo a metà 400. E, ecco, questa è la data. Il 24 novembre del 63 a Terlizzi è la data e il lungo della stesura, diciamo, di questi capitoli. O meglio, le richieste sono confezionate in loro. I rappresentanti dell'università, prima di recarsi al sovrano, stilano questo elenco di richieste che poi sottoporranno al sovrano. Però, come vi ho detto, tra le diverse comunità appartenenti agli ex domini corsegnari, Mesagno si muove abbastanza cedermente. Quindi, neanche dopo dieci giorni, è pronta a rendere omaggio a Perlande e a presentare queste richieste di capitoli. Quindi sono i delegati dell'università che si recano in campo a Terlizzi dove era investito il campo del sovrano con tutta la sua corte curia itinerante. Come fonte, i capitoli sono molto importanti perché, a differenza di altri testi normativi che presentano che cosa? L'imposizione della norma che viene dall'alto i capitoli invece sono, che cosa? Sono il risultato di una norma proposta dal basso perché se voi, ecco, e poi se sono state chiare nel presentare questo aspetto, cioè queste norme sono scritte dalla comunità in base alle esigenze, in base alle aspettative della comunità e poi successivamente sono sottoposte al sovrano che ovviamente le approva. Che tipo di richieste sono, ripeto, perché in base alle richieste se noi ricostruiamo com'era la vita a Mesagne nella metà del Quattrocento, rispondono alle necessità del centro, alle dubbie, pretese di ripresa economica, aspettative di ripresa economica. Perché di ripresa economica? Gli anni immediatamente precedenti alla morte dell'Ozzini avevano visto tutto il Regno devastato da una guerra. C'era stata la guerra di successione al cono napoletano, tra lo schieramento a Gioine e lo schieramento aragonese, quindi in qualche modo tutti i territori del Regno avevano risentito di questo stato di guerra. Quindi era necessario per le comunità chiedere almeno degli isgravi fiscali proprio per favorire una ripresa economica. Ancora, dietro a questi capitoli noi possiamo leggere la vocazione produttiva del territorio. Perché ovvio che di dove vengono richiesti degli isgravi fiscali in relazione alla produzione olearia o in relazione al trasporto del vino noi ricostruiamo che cosa? Quella che era la vocazione produttiva della terra di Mesagne. Ancora, quindi gli obiettivi principali che la comunità vuole raggiungere portando questi capitoli diciamo all'approvazione del Zonano sono, come ho detto prima, conferma di privilegi giacoluti nuove concessioni e reintegra di possesti diritti perduti. Questo cosa vuol dire? Molte delle famiglie mesanesi all'epoca si erano schierate a favore di Ferrante ma contro l'Ozzini. Questo aveva comportato la conquista dei beni a quanti in qualche modo non si erano votati al principe. Quindi il principe aveva privato queste famiglie di beni immobili immobili vari e quindi a quel punto molto il principe la collettività, la comunità chiede che chi è stato privato di questi beni e dei diritti perduti possa ritornare in possesso. Con questo slide una precisazione che avevo anticipato io parlo di terra di Mesagne. Allora, perché terra e non città o non casale? cosa distingue questi termini e cosa risponde il termine terra? Nella documentazione vedevano noi possiamo trovare il termine città allora il termine città nel medioevo è sempre utilizzato per quei centri che sono sedi di cattedra vescovie quindi la città di Brindisi la città di Oria perché sedi di cattedra vescovie centri invece meno estesi anche se non è detto questo rispetto alla città potrebbero essere meno popolosi o potevano offrire di nuovi servizi sicuramente rispetto alla città rientravano nella definizione di terra però la terra attenzione è molto più vicina alla città che al casale perché la terra ha solitamente una struttura fortificata ha delle mura una rocca quindi garantisce a coloro che vi abitano una maggiore difesa rispetto invece a quegli insediamenti spazi che i documenti riportano sotto la voce di Casale Borgo Villaggio dove papiamo che cosa la nascita spontanea di abitazione l'una accanto all'altra ma senza che ci sia diciamo una struttura difensiva quindi questo per entrare in merito al perché come mai accanto al centro di Mesagne noi troviamo sempre il termine di terra ora qui invece vi ho riportato la foto del Liber Focorum cos'è il Liber Focorum è un registro di metà 400 c'è Chilo Data 1443 Chilo Data 1447 ma l'epoca è quella che comunque riporta il computo dei fuochi cioè il computo delle unità familiari che contribuivano al pagamento delle tasse all'interno di ciascuna comunità se voi date uno sguardo ai numeri che ho riportato ecco quello che vi può sempre strano è che tra le città sono indicate ovviamente nell'area intorno a Mesagne stiamo parlando di un'area di circa 1400 km quadrati che abbraccia tutto il territorio che vede proprio a Mesagne al centro di quest'area quindi Brindisi Ostuni e Oria che sono città presentano un numero di fuochi tanto ho messo i numeri 268 230 277 seguono poi le terre Mesagne Francavita Ceglie Carovigno e poi i Casali cioè quegli insediamenti non fortificati aperti che sono per l'area dove ci stiamo occupando San Vito dove Santa Susana dell'Ariano bene basa agli occhi che il numero di fuochi quindi il numero di famiglie censive per Mesagne sia addirittura superiore a quello di Brindisi è ovvio che la numerazione dei fuochi va sempre presa con una certa cautela perché quel numero è comunque spesso il risultato di trattative trattative tra l'università e il prodottario l'università e il sovranno cosa voglio dire con questo che ogni comunità tendeva a dichiarare il minor numero di fuochi perché la tassazione veniva effettuata sui fuochi cioè veniva poi ripartita tra tutta la popolazione sulla base del numero di fuochi quindi è ovvio che un minor numero di fuochi avrebbe comportato per tutti una contribuzione più bassa però è comunque significativo che Mesagni registri una popolazione sebbene una popolazione fiscale e non reale superiore addirittura a quello di Brindisi e questo lo si vede anche che cosa nelle richieste che questo centro sebbene definito terra avanza al sovranno quindi il tutto per far capire che Mesagni a metà del 400 è un centro davvero molto vivace poi ci potremmo chiedere a quel punto di vista bene di questo abbiamo visto il numero di fuochi e le stesse richieste ci vedremo con le richieste che avanza la comunità partecipare alla vita politica di Mesagni del popolo di Mesagni e partecipare appunto alla vita politica quindi sono tutti degli aspetti che ci fanno capire quanto fosse vivace questo centro a metà 400 e ancora questo ritemismo emerge nel numero delle richieste vengono presentate in quell'occasione afferrante ben 22 richieste al sovranno le richieste io le ho in qualche modo divise per tematiche cioè cosa richiede la comunità al sovranno prima di tutto riconosciare che sono un signore feudale quindi si è appena liberata del principe di Taranto vuole essere una demanialità direttamente oppressivo che aveva mortificato le aspettative di questa di questa comunità e che tu diciamo di della demanialità la comunità di Mesagni che contava di godere di una maggiore autonomia o meglio più che autonomia di maggiori spazi di manovra perché temi di autonomia può andare ad una forma completa di indipendenza rispetto al sovranno dobbiamo ricordarci che siamo sempre all'interno del regno quindi più che autonomia certamente maggiori più alti spazi di manovra da parte dell'università ecco l'aspetto l'ultimo è con questa doppia rappresentanza quindi questo dinamismo che è anche dinamismo sociale perché chiedono di partecipare alla vita politica non solo con la catena di base diciamo dei gentilomini ma anche dei popolari e si interreranno un gentilomo e un popolato nella carica di camerario che era una sorta diciamo di tesoriere della città quindi che provvedeva diciamo a curare le casse le casse giudadine in qualche modo un'altra tipologia di suppliche quindi abbiamo diviso queste 22 suppliche per temi affrontati sono delle suppliche di evidenza e critiche nei confronti del governo precedente quindi in qualche modo le diciamo quelle della richiesta della demanialità la demanialità viene vista come la scelta positiva favorevole per il miglioramento della comunità rispetto all'appartenere ad uno statunitale e quindi sono delle suppliche critiche di confronto il governo di Giovanni Antonio perché vengono queste diciamo l'abolizione di alcune imposizioni volute proprio al tempo degli Orsini prima avevano tutte l'eliminazione di tributi straordinati che erano stati già introdotti dalla mamma di Giovanni Antonio da Fede del Ghe con testa di legge perché come abbiamo visto in precedenza Mesanne era comunque un'està con testa di legge e la mantessa avevano imposto dei tributi straordinari e nel momento in cui la comunità si vota al sovrano chiede subito l'abolizione di questo tributo straordinario altro aspetto il recupero dei beni confiscati lo avevano detto e comunque il principe aveva confiscato tutta una serie di beni a coloro che si erano opposti alla sua linea politica un altro gruppo di richieste riguarda invece l'aspirazione al miglioramento delle condizioni socio-economiche quindi riguarda che cosa la ripresa la volontà di sviluppare un'economia ancora più dinamica tra questo c'è cosa? l'esenzione di un tributo di tre anni non si è partita di queste fiere franche mesagne soltanto a partire dal 400 ma io tenderia a discutere che sia stato Federico II emesso negli anni venti del XIII secolo e dal 400 settore consente alla celebrazione delle fiere di una fiera ma anche di operatori che venivano dalle province di Mitrofe da altri territori del regno ma anche operatori economici stranagnicoli quindi nel corso delle fiere troviamo presenze di veneziani di racusei di genovesi quindi anche diciamo commercianti di operatori appunto provenienti al di fuori del regno è ovvio che durante le fiere si vendeva anche una maggiore varietà di prodotti non solo prodotti agricoli non solo prodotti locali ma tutta una serie anche di generi di lusso prodotti preziosi che potevano provenire dai tessuti alle pietre preziosi e a oggetti di alta diciamo manifattura che potevano essere comunque prodotti anche antifori di quello che era lo spazio diciamo solo l'area di Mesagne ma dell'intera per l'opranto per la fiera era anche necessario disporre di maggiori spazi perché ovviamente maggior numero di esporitori maggior numero di partecipanti chiedeva ovviamente spazi molto più anche per questo anche la scelta di questo piazzare antistante quello che sarà il futuro convento dei Caravigliani perché offriva gli spazi giusti per allestire appunto una fiera di che era la competenza durante queste fiere chi controllava chi aveva la giurisdizione in qualche modo durante le fiere la competenza giurisdizionale spettava come abbiamo detto al camerlengo e l'aspetto importante è che a ricoprire questa carica era un anno un gentiluomo con un anno un popolano quindi questo a mettere in evidenza questa dinamicità sociale della comunità di Mesangia quindi questo criteto della tornazione viene accordato per la prima volta da Ferrandi in questi capitoli del 63 ma poi verrà confermato successivamente anche dalle regine che succederanno a Ferrandi sempre di casa di casa sabonese vi dico qualcosa sui compiti di questo camerlengo il camerlengo aveva sia competenza ordinaria ovvero provvedeva alla giustizia in tempo ordinario cioè nel tempo non di fiera e solitamente si occupava delle carceri e della custodia delle carceri poi aveva una competenza giurisdizionale straordinaria proprio in quello che era il tempo straordinario il tempo di fiera perché nel tempo di fiera erano concessi tutta una serie di franchigie e di privilegi a chi ovviamente acquista chi vendeva chi acquistava e quindi dal punto di vista diciamo anche della legislazione viene considerato come un tempo straordinario quindi all'interno della fiera dirimela tutte le controversie che potevano rinascere e sorgere durante le contrattazioni sia di natura civile che di natura belle riguardo alla fiera di Sant'Angelo sono sempre questi capitoli e questa documentazione dà tutta una serie di informazioni anche sulla natazione cioè i giorni di fiera perché quando nel momento in cui viene richiesta la concessione di una fiera sappiamo anche quando inizia e quando finisce perché lo sappiamo anche questi sono i giorni nei quali il camerale esercita la propria carica di maestro del mercato prende il nome di maestro del mercato e la fiera va la prima fiera di autunale diciamo dal 26-27 settembre alla mezzanotte del 55 ottobre queste sono le date diciamo della prima fiera mentre sempre la mezzanotte del 6-7 maggio alla mezzanotte del 15-16 maggio si svolgeva l'altra fiera dell'Angelo come veniva avvertita la popolazione attraverso una serie diciamo di c'era lo scoppio di un mortaio c'era il lulo di un duro e poi nei giorni di fiera venivano insate le insegne tanto regge perché siamo più o meno in un momento in cui la città è città reggia città demaniale tanto le insegne dell'universitas queste sono le altre fiere mesanesi delle quali però non sono riuscita a ricostruire la data di istituzione cioè noi sappiamo che veniva celebrata sempre al fine 415-500 la fiera di San Paolo canta per due giorni perché sappiamo che nel 1510 la regina Giovanna III prolunga la durata della fiera dagli otto giorni quindi ovviamente immaginiamo che fosse celebrata prima del 1510 ma che si svolgesse soltanto per due giorni però non sappiamo quando fu veramente istituita stessa cosa per la fiera di San Lorenzo che si teneva il 10 agosto in occasione dei festeggiamenti di San Lorenzo e una terza fiera che celebrava la terza domenica di novembre nella piazza del municino ecco è significativo che in un centro si celebrassero ben cinque fiere anche questo è un aspetto che richiama l'attenzione di chi diciamo studia questa comunità perché è sempre l'indice di una significativa vivacità che sicuramente le fiere di Mesagne non venivano frequentate soltanto dai venisi quindi sicuramente non gli appuntamenti importanti che richiamano gli operatori economici come minimo dell'intera provincia di Teratotato c'è anche da dire che Mesagne come anche oggi detiene una posizione geografica centrale quindi questo indubbiamente ha favorito nel tempo il passaggio degli operatori economici molto vicino a Brindisi ma se guardiamo a tutta quella che era l'antica provincia di Teratotato ha sicuramente una posizione molto centrale corro allora abbiamo scandito i capitoli per le logiche di richiesta l'ultimo aspetto da considerare sono quei capitoli che quelle richieste di notte al Sodano che ci danno tutta una serie di informazioni sulla costituzione del governo cittadino che erano gli uomini ma più che gli uomini le cariche le magistrature che andavano a comporre l'universitas allora abbiamo sicuramente certezza che così come accadeva in altre e su altre comunità un organo collegiale era composto dall'assemblea degli ominis e per ominis dobbiamo intendere sicuramente tutti i capi famiglia delle famiglie appunto mesi ovviamente capi famiglia in grado di fornire reddito in qualche modo ecco perché famiglie che poi venivano chiamate a contribuire sulla base di un apprezzo l'apprezzo una sorta di dichiarazione dei redditi che portava a far sì che ogni famiglia contribuisse in base a quelle che erano ovviamente il proprio reddito a questa assemblea più diciamo nutrita di omines viene poi il consiglio ristretto di ufficiales cioè il consiglio di coloro che detenevano nel corso dell'anno una carica una magistratura cittadina e quindi il sindaco il numero di uno o anche due perché in diversi documenti abbiamo il cittadino uno giudice annuale catevano maestrodatti tesoriere erario baiulo non ho inserito ma c'è anche baiulo quindi tutte queste cariche erano comunque ricoperte annualmente perché la carica è durata annuale per garantire una diciamo un continuo ricambio l'unico forestiero era il capitano cioè colui che si occupava della giustizia penale e di tutte quelle cause non risolte in sede civile il tribunale civile era il guai della bagliva con a capo il baiulo e il tribunale penale era quello con a capo il capitano e il capitano appunto si occupava della giurisdizione penale di quanto è sull'asse da quella civile non fosse stato risolto presso il tribunale civile tutte queste cariche avevano scadezza annuale e nei documenti troviamo ecco vi ho messo tra parentesi le famiglie dell'epoca che sembrano aver ricoperto il maggior numero di cariche San Giorgio Maglia Clerica Tignano non so se alcune di queste famiglie sono tutt'oggi presenti a me si ok ma ci sono ancora famiglie con questi cognomi o sono famiglie che si sono non ci sono non ci sono più come valore sono della documentazione che nel 1400 ricorrono spesso vabbè qui vi ho risintetizzato i compiti del tabellano ecco un altro aspetto che volevo contare a tezione è il teatrum questi consigli sia il consiglio più allargato che il consiglio più ristretto si ritrovavano in un particolare luogo che le fonti ci dicono fu costruito nel 1465 si parla di teatrum quando noi nei documenti troviamo il termine teatrum questo termine può avere due significati o indicare la piazza il foro quindi lo spazio nel quale si avvenivano queste riunioni però uno spazio aperto oppure indicare un edificio all'interno del quale si tenevano queste assemblee prendendo il teatro tocco sedio stile ecco quindi il documento è del 1465 ma non penso sia provvissuto poi qui c'è il professor Ruggesi di questo edificio di questo luogo di riunioni che sarebbe probabilmente possiamo immaginare fosse anche soltanto uno spazio aperto un foro più che un teatro quando però quelle comunità che hanno invece conservato la struttura settonica questa struttura era solidamente realizzata su due piani un loggiato al pian terreno nel primo piano di solito vi era la residenza del capitano perché un funzionario forestiero veniva ospitato dalla comunità proprio all'interno di questo edificio in cui si tenevano diciamo le assemblee questo grosso modo in sintesi la natura di questi capitoli cosa la comunità chiede a Ferrante lo sento dedicato per il mezzogiorno ma soprattutto per questi termini principali di Dato perché viene appunto il passaggio dalla feudalità da uno stato feudale alla demanialità è ovvio che questo porto dialettico tra la comunità e il soprano non si esaurisce in quell'unico momento perché successivamente la comunità è presente a un priori richieste del soprano abbiamo per esempio la richiesta di usufruire delle risorse del territorio perché era importante per la comunità riuscire a controllare anche il territorio il territorio era ponte di Gname era luogo dove poter pascolare il vestiame era luogo per utilizzare delle acque dei corsi d'acqua nel caso in cui ci fossero diciamo degli specki d'acqua quindi c'è tutto l'interesse da parte della comunità a sfruttare il territorio un territorio che confinava con una città perché il territorio di Mesario confina potrebbe avere la città di Prendisi quindi sono pari di scontri tra queste due comunità per la definizione del territorio e in un privilegio successivo della regina Giovanna sarà la regina a pronunciarsi a favore dei mesagnesi che chiedono di poter sfruttare le risorse del territorio e di ad amico diciamo dei pesimi un altro privilegio che viene confermato nel 1476 è importante sempre per quel discorso che evidenza la vivacità economica di Mesagno all'epoca è la richiesta di essere cittadini del regno cioè i mesagnesi chiedono di essere liberi di circolare in tutti i territori del regno senza pagare alcuna tassa senza pagare alcun contributo quindi alla pari diciamo di Veneziani o alla pari di Tarano a partire dal 1777 rientrerà invece nei domini delle regine di Casabona perché Ferrante donna la contia di legge e con la contia di legge sempre anche Mesagne alla sua seconda moglie Giovanna III quindi tutta quest'ultima fase dal 1477 al 1520 vede sì Mesagne legata sempre ai domini di Casabona ma non sotto il controllo di Totetè ma bensì delle regine che viene confermato anche dall'Università di Venezia sul litorale Adriatico e poi comincia a minacciare il nostro territorio l'area soprattutto l'area Adriatica sappiamo che viene occupata Gallipoli che viene occupata Nardò quindi a quel punto il figlio di Ferrante che era l'uopotenente della provincia dell'area della provincia di Terradolando impone a tutte le comunità un tributo straordinario per difendere questo territorio i mesanesi vengono chiamati a contribuire per difendere la città di Quindisi da eventuali attacchi ovviamente i mesanesi non accolgono questa imposizione positivamente si rivolgono alla regina e chiedono di esserne esentati e questo rapporto privilegiato tra la comunità e Napoli tra la comunità e la regina farà sì che verranno esentati da questo tributo straordinario l'ultima richiesta è quella che ve l'avevo accennato questa questione di confini che porterà nuovamente la regina a esprimersi a favore dei mesanesi contro i presidi questi diciamo sono gli ultimi leggi ma non è in roma nello specifico l'unico aspetto che vi dicevo è che dal 1476 la comunità è sempre legata alla Casa Regnante ma bensì al governo delle regine prima Giovanna III e poi Giovanna IV dagli ultimi anni tra il 1517 1518 è la regina Giovanna IV che è signora diciamo di questo territorio della Conte e c'è nulla Conte di Lizia anche della terra di Mesagne questa è la slide conclusiva questa data il 27 agosto del 1518 è significativa perché muore la seconda della regina Giovanna IV e a questo punto la corona e non è più corona ragonese ma è che corona spagnola perché nel frattempo la Casa d'Aragona è stata diciamo sconfitta dalle guerre tra Francia e Spagna che hanno avuto teatro proprio nel regno mezzogiorno d'Italia nel regno di Napoli e quindi la corona passa a Ferdinando il Cattolico passa agli spagnoli morta la regina perché le regine continueranno comunque a vedere la signoria su Mesagli come l'intera contea di legge tutta la regina Mesagli nuovamente incamerata dalla corona e a partire da questo momento però si chiude di lì a poco la storia diciamo illegale con la corona perché il sorano spagnolo per rinforare Castelage vende il feto di Mesagli e nuovamente verrà concesso ad un signore il primo signore perché poi se ne susseguiranno diversi in epoca diciamo moderna il primo è Alfonso del Tramo che acquista il feudo di Mesagli proprio nel periodo in cui stanno per arrivare i carmelitani ovvero nel 1522 ma poi il professor Urgesi ci parlerà di quello che sono i documenti precisi che segnano diciamo la vicenda carmelitana l'inizio della vicenda carmelitana in questa comunità vi ringrazio per l'attenzione spero di non essere ridurata faccia se qualcuno vuole fare un intervento già così si sente altrimenti dovrei avvicinarmi con il microfono per non eh quindi se c'è qualcuno oppure si può avvicinare qui lo prendiamo il microfono così si sente così si sente no 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 Allora io voglio appunto fare i complimenti a Luciana per la bellezza della sua relazione, approfondita, chiara, sintetica, veramente faccio i miei complimenti insomma, non ci sono domande purtroppo. Grazie davvero, grazie, poi detto comunque da una collega che io ho stimato sempre nel corso universitario, mi fa davvero molto piacere. Posso chiedere una cosa nel tuo titolo in che porto il titolo è pieno? Sì, anche i complimenti devo dire anche che è stata molto chiara per chi non è della materia, per chi vuole apprendere anche un percorso di storia, credo che è stato diciamo molto bello sentita. A me ha coltito una slide, anche se sta diciamo di passaggio, perché è una questione di cui abbiamo discusso spesso e riguarda Guaceto, Torre Guaceto, perché evidentemente Mesaglie prima aveva forse lo sbocco al mare, aveva un territorio che occupava, però sarebbe interessante sapere come mai Mesaglie poi ha perso quel territorio, in quale fase l'ha persa. Cioè, credo che forse è una domanda, diciamo forse troppo complessa nel senso vasta, però se ci vuoi dare un accenno su questo, perché noi spesso pensiamo, così anche con un po' di superficialità, della possibilità di riavere quel territorio, quindi diciamo si discute così, magari anche in una discussione leggera. Non bisogna dire in che epoca ciò non sia stato più possibile per Mesaglie, cioè nel senso sicuramente i documenti parlano di un controllo, però già al 400 sembra quasi una pretesa, cioè come se fosse qualcosa ancora più antico nel tempo, questo controllo sul territorio di Guaceto, perché già qui quando viene esposto come richiesta, la sensazione che si ha è che comunque in libertà il territorio di Mesaglie lo avesse già perduto. Però il 400 è una fase dinamica da questo punto di vista, perché non è un problema che riguarda solo Mesaglie, cioè tutti i centri ambiscono a stendersi sul territorio, c'è chi ce la farà di più, c'è chi ce la farà di meno. Per esempio, se noi oggi guardiamo il territorio di Nardò, il tempo ha sempre mantenuto questo territorio molto esteso, ma non sono mancati i casi in cui stavano lì per perdere alcuni insediamenti, quindi si sente che magari alcune comunità siano state più taci di questo, è possibile. Però io non riesco a gradare il momento in cui effettivamente si sia perso questo controllo sul territorio, perché soprattutto nel Medioevo questi territori erano piuttosto fluidi e non soltanto per le città, ma anche se pensiamo agli stati feudali, anche gli stati estesi, mutano spesso i confini per tutta una serie di vicende e spesso anche per usurpazioni delle vicende da parte di comunità di nitrofe o di signori di nitrofe. Sì, una domanda che la faccio io, lei ha detto che la città è la vita della terra, della città, che la città ha cercato sempre di migliorare la sua posizione, non soltanto a livello economico ma anche a livello sociale. Ecco, questa vitalità, lei poi ha detto che la città è al centro un po' della terra, l'Otran, quindi la sua posizione era favorita rispetto ad altri. La realtà, diciamo, intorno a tante città, perché non erano così vitali? Era una prerogativa di mesagne perché le persone che la formavano avevano questo tipo di, diciamo, di attitudine? Oppure c'erano delle altre realtà ma non potevano per altri motivi? Se guardiamo l'area intorno a Mesagne, contemporaneamente cresce, per esempio, anche molto la comunità di Pancavilla, perché Pancavilla è un po' nuovo centro di Pancavilla e cresce, ai danni, ad esempio, di un centro più antico, qual'era Oria, quindi queste dinamiche di sviluppo o di inviluppo potevano essere, diciamo, frequenti. Sicuramente questi centri del Pancavilla crescono anche perché non è un'epoca positiva per Brindisi. Sicuramente incide molto il fatto che il 400 segni per Brindisi un'età di declino rispetto a quella che era Brindisi in età sveca e quindi hanno beneficiato questi grossi centri che, se noi anche facessimo un confronto col Basso Saleto, non troviamo che andranno le taci nel Basso Saleto, ma perché l'insediamento nel Basso Saleto, diciamo, me lo possono confermare anche con le colleghe etiologhe, è un insediamento che è stato sempre a maglie strette e quindi nessun centro si è poi sviluppato così tanto ai danni degli altri, sono stati tutti i centri più piccoli, mentre nel Brindisino si sono sviluppati pochi centri a te lo numerico, ma molto più grandi, perché la popolazione ha abbandonato i piccoli casali che prima erano comunque molto presenti nella foresta uridana, quindi nel corso del 300, anche a seguito delle guerre, anche a seguito delle pestilese, si è trovato molto più conveniente trasferirsi nei centri che come Mesagno, come anche Campavilla, erano dotati di un minimo di struttura di ventina, di un minimo di circuito murario all'epoca, quindi in un momento di crisi nel 300, molte delle popolazioni infatti si sono, diciamo, raccolti all'interno del 2 centri. Io mi sono fermata su quell'aspetto, perché per esempio Campavilla è un centro molto vivace, ma non ha la doppia rappresentanza dei gentiluomini e dei popolari, quindi è importante che Mesagno abbia la rappresentanza anche dei popolari, perché se questa doppia rappresentanza è certamente attestata in centri come Brindisi, centri come Lecce, è molto meno attestata in altre terze, per esempio, dove si parla, almeno per tutto il 400, poi già nel 500 ci sarà un'evoluzione diversa, della sola rappresentanza non filiale dei gentiluomini. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. La società civile a dare un ruolo importante a coloro che ho un territorio, che osseggono dei territori molto ampi, molto vasti, proprio penso questo perché rileggendo le catastri, soprattutto i catastri del 500 e del 700, l'espressione degli oliveti è notevolissima. Quindi credo che già da l'ora avesse Mesagno, forse anche il ranchiulino, una potenzialità agricola molto forte e che questo possa essere stato alla base di questa dinamicità. sicuramente il vicino è una terra più fertile rispetto ad altre aree di terra d'olto e quindi sì, registro anch'io nei documenti dell'epoca diversi apprezzamenti di terreno e diverse produzioni di olio, vino, comunque è una terra molto rilevata e questo accomuno con tutti i centri, diciamo. La prima età del 400 che fanno riferimento a queste proprietà, a queste circune? Sì, questa è la proprietà, sì, e sono questi rappresentanti, diciamo, del popolo, del popolo perché non nobili, ma hanno la possibilità con la terra di arricchirsi e di acquistare nuova terra che ovviamente riguarda poi sempre la ponte primaria che è il primo madre dell'epoca. Grazie. 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 Ti chiedevo se al 100% ci sono anche quali altre comunità di religiosi. I francescani sicuro perché c'è un'attaccavile francescana. La documentazione è prodotta dall'università per l'intervenzione prevalente. I francescani sicuro ci sono per altri punti, comunque sulle comunità francescane di Radonato. Arrivano grosso modo per questi centri, Garadina, Armesagne, Francavile, che sono queste realtà, tuttora la metà del Quattrocento, la documentazione ci dice che ci sono. Poi non è facile ricostruire proprio il commento di... Diciamo che gli americani in questo sono più fortunati perché ci sono dei documenti rispetto agli altri ordini che ci dicono che è il momento esatto del loro insegnamento. Ecco, non tutte le comunità sono state così fortunate. Infatti io, se ricordate, all'inizio dei nostri incontri ho fatto questa domanda, no? Con altre presenze religiose, no? Forse più conosciute anche di noi, perché negli americani siamo conosciuti per l'ascolto della parola, la preghiera, la nostra fraternità, no? Però devo dire che i francescani erano molto più conosciuti, no? Per la loro povertà, diciamo anche per l'aspetto gioioso della vita e quindi forse avevano più possibilità di noi di inserirsi in un contesto sociale, no? E il fatto appunto di avere questa possibilità che come carnetani siamo stati invitati a venire a Mesagne e questa, diciamo, la domanda che vi facevo, perché proprio i carnetani, no? Perché c'è questo preferire da parte, insieme alle università del clero mesagnese, di questo gruppo di religiosi? Io questo non posso rispondere perché sicuramente però nel Quattrocento molte comunità accolgono i contini religiosi anche su richiesta del più datario perché spesso sono anche i signori e questo rapporto particolare esiste soprattutto con i francescani perché molto spesso è quel signore feudale che destina una struttura e quindi si fa, diciamo, promotore dell'erezione di un convento per ospitare una comunità francescana si vedono per esempio francescani a Santa Caterina Galatina e lì è stato, diciamo, rimondo il bando quindi in molte realtà del mezzogiorno sono anche i signori qui è particolare perché non c'è al momento un signore cioè sicuramente la comunità e il mezzogiorno al momento del loro arrivo è demaniale è demaniale, è in una fase demaniale sta cambiando, però è da poco non c'è ancora questo forte legame del signore e della comunità accade tutto in quegli anni, insomma grazie, io volevo ringraziare con lei tutto il gruppo degli studiosi che ci aiuteranno a riflettere su questa presenza nostra a mesagne anche perché forse, non lo so, abbiamo perso un po' di tempo perché con il Covid non era possibile incontrarsi, vedersi, eccetera, eccetera però se questo è l'inizio penso che siamo già in un buon cammino e speriamo di poter affidare questo cammino possiamo presentare un testo che ci aiuti non soltanto a ricordare ma che ci aiuti anche a saper leggere tante realtà che passano attraverso tante presenze perché non è soltanto la presenza garminitana ma come ci ho detto stasera in modo magistrale è anche l'esperienza di una città che è vitale e che vive vari passaggi storici e che ha le idee chiare su tante cose e questo penso che sia molto importante e le do questi fiori a nome della nostra paternità carminitana a nome del comitato scientifico e soprattutto del mio periore provinciale per ricordare che la saluta e si scusa di non poter essere presente questa sera qui con noi grazie applausi come lo spazio c'era a bianco e se ancora diciamo tutto il docente del tutto superava questa fase che possa essere il convegno di un'intero venga c'era a speranza che non lo farà più una maschera stia a bianco guardate per favore si resta nei maschi di dici sì grazie e subito dopo se volete gradire c'è qualcosa di soltanto sigillato perché non possiamo toccare niente problematiche quindi di fronte a voi potete postare grazie grazie